L'Arte a Radio R è con Nicla. Bene, adesso andiamo a Forte dei Marmi per presentare la mostra Identità Italiane di Antonio Giovanni Mellone, anzi a Marina Di Massa e ne parliamo con la signora Rossana Mellone, pronto che è qui al telefono con noi. Eccoci, sono qua, io sono un'attrice e nonché di moglie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie. Allora, lei è giornalista? Sì, con l'autore. Con l'autore. Senta, ci può parlare di questa iniziativa che inaugura il progetto Arte con Gusto di Identità Immutate? Ecco, intanto diciamo cos'è Identità Immutate perché come tempo risale insomma al 2002, quindi da un po' che sta portando in giro il suo messaggio, la sua missione. Identità Immutate è un movimento no profit voluto dalla provincia di Massa Carrara e creato sia da me che da mio marito appunto Antonio Giovanni Mellone per promuovere diciamo le ricchezze, i tesori nascosti, soprattutto le produzioni gastronomiche tipiche di qualità e di scarsa quantità, quindi poco visibili al grande pubblico. Negli anni abbiamo fatto numerose manifestazioni in giro per l'Italia aggregando territori simili a questo massese e quindi le terre di Alcamo, il Fermano nelle Marche da voi, poi in Puglia il Salento, le terre dei Forti nel Veneto eccetera eccetera. Tutte manifestazioni enogastronomiche in cui però appariva anche l'artigianato di qualità come il feltro, il ferro battuto, il marmo, qui siamo vicino alla quale, ma anche l'arte. Naturalmente con noi abbiamo sempre portato la Rai che ci ha concesso proprio il suo ok, abbiamo fatto molte trasmissioni dedicate e siamo riusciti in questi anni appunto a portare in evidenza prodotti come può essere il miele d'op della lunigiana, il lardo di colonnate è straconosciuto, ma non così, ad esempio la mortadella nostrane che poi è un salame qua sempre del massese. Ora dopo tanti anni e dopo tante manifestazioni, tra cui la principale spino fiorito al castello ma la spina di massa da dove siamo partiti, con Beppe Digazzi come padrino di battesimo e Giorgio Calabrese, il nutrizionista anche lui e poi tanti personaggi della Rai che ci hanno dato il loro applauso, diciamo così, Franzelli, Columbro, anche Lamberto Sposini ricordandolo con grande piacere, un grande amico. Dopo insomma tanti anni abbiamo pensato di arricchire ancora di più questo movimento visto che in periodi di crisi è la sinergia quella che poi alla fin fine vince. Prendendo spunto da mio marito, guarda caso, che è anche pittore oltre che giornalista, abbiamo già incominciato veramente l'anno scorso sempre a spino fiorito con delle mostre non solo sue ma di altri pittori riuniti nelle identità immutate della pittura. E qui ecco che partiamo con invece arte con gusto. Spiega tutto, io credo. E' certo, è vero. No ma certo, si è spiegata benissimo signora. Senta, lei dov'è adesso? Cosa sta facendo? Sta preparando qualcosa? Ah sì, siamo qui nel bel mezzo dell'allestimento della mostra, perché la mostra, diciamo i quadri li appendiamo per così dire oggi e aspettiamo degli amici per un brindisi informale. Poi, dopo due giorni sempre a disposizione, il vero e proprio brindisi inaugurale, il vernissage cosiddetto, l'avremo venerdì 6 settembre alle ore 18.30. Perché appunto uniamo, utile al dilettevole, sacro, al profano, mettetela come volete, uniamo una degustazione offerta da Vetrina Toscana, che è una rete che vuole anche qui dare sviluppo ai prodotti gastronomici artisanali della regione e quindi ci sarà questa degustazione, ci saranno i sommelier, ci saranno dei produttori, dei prodotti tipici e poi su questa linea proseguiremo per tutti i giorni della mostra che chiuderà il 20 settembre facendo serate con un pasticcere che verrà a spiegarci come viene fatta la famosa spongata alla torta di riso, però anche dei poeti locali che verranno a recitare le loro poesie, dei libri, un caro amico Pietro Marchini ha fatto quattro guide di itinerari sulle Alpe Appuane, estendendosi poi anche dal lato della Garfagnana, nella Versilia, sempre un po' legata al territorio e quindi questa mostra offrirà lo spunto, ripeto, a coniugare tutti i tipi di arte e non ultimo quella enogastronomica. Benissimo, e senta, adesso però che ci ha illustrato un po' tutto il programma, potrebbe parlarmi dell'arte di suo marito? Io ho visto solamente… Sì, mi fa piacere, ma mio marito è tanto, ripeto… Sì, questa è una trasmissione che parla d'arte, sono curiosa. Ecco, ecco, allora, intanto il giornalista, visto la vostra sede, volevo anche specificare che lui ha fatto per quasi 14 anni il giornalista per la Lega del Filodoro di Osimo. Ah, bellissimo. Ecco, contribuendo a realizzare il periodico Trille nell'Azzurro. Ora anche per motivi di salute non può più, però insomma è molto legato al vostro territorio. E certo, ha avuto questo legame importante. Certo, certo, certo. Poi è stato art director del quotidiano il giorno, per cui quando c'era Zucconi, il famoso giorno popolare illustrato, quindi voi vedete c'è già la mano del grafico e qui arriva le sue pitture. Lui è partito, non avendo più vent'anni, parecchio tempo fa, con uno stile impressionista, con molte teme ad olio, moltissimi disegni, achina, matita, querellati e molto figurativo. Poi chiaramente negli anni c'è un'evoluzione. Dopo anche un periodo non molto positivo della sua vita, ha anche cambiato, diciamo, tematiche. E' arrivato, ad esempio, quest'inverno ai cavalieri, tant'è vero, sì, che ne ha fatto una mostra a Parma, alla sede della provincia, intitolata Sogno di un cavaliere di mezz'estate. Questi cavalieri, tutti in acrilico, in acrilico naturalmente, erano abbinati a centauri, a figure mitologiche, a donne particolari e volevano essere un po' una spinta, una spinta per rimettere, diciamo, in gioco certi valori come la generosità, l'altruismo, l'amicizia che si vanno perdendo. E di cui proprio i cavalieri di un tempo sono il simbolo. Certo, la cavalleria, no? La cavalleria, però visto in una maniera... Anche questo mondo fiabesco, no? È bello anche. Molto fiabesco, sì, alcuni lo vedono un po' inquietante, anche perché poi i colori sono veramente incisivi, molto forti, tanto da dominare il segno, anche se poi mio marito i contorni, quanto deve essere portato in rilievo, li segue poi con un segno, no? Un brillante, nero, grafico. Ecco, alcuni, ripeto, li trovano impietanti, altri invece trovano proprio il sogno, trovano proprio uno spazio anche di evasione dalla realtà quotidiana. E quindi che va al di là, insomma, del nostro oscuro mondo d'oggi e che ci riproietta in una composizione che vorrei anche dire che è armonica, un equilibrio tra forme e colori, l'hanno detto i critici, non l'ho detto io, Stefania Provinciali, Gianmarco Puntella, direttore del Festival dell'Arte di Spoleto. Insomma, e qui siamo ai Cavalieri. Dai Cavalieri poi strada facendo le dame, ripeto, le figure mitologiche e è arrivato a una forma di figura femminile, anche qui molto particolare. Ecco, ed è arrivato all'espressionismo, ormai dall'impressionismo è passato all'espressionismo. E con questo stile ha fatto queste donne che sono state presentate prima a Forte dei Marmi al Museo Ugo Guidi appunto a luglio e adesso sono qua e poi probabilmente andranno a Milano. E sono donne un po' particolari perché dice l'autore che lui si è ispirato alle difficoltà esistenziali del momento del sesso debole e che ancora di più oggi vive in una maniera acuta il suo stato di donna. E vediamo il femminicidio, ogni giorno muore una donna. Esatto. E noi come le ha rappresentate? In prevalenza ci sono delle bagnanti, sembrerebbero delle serene signore sotto un ombrellone giallo, sotto un ombrellone nero, tutte raggruppate sulla spiaggia. In realtà, disse sempre l'autore, sono sgraiate su spiagge bituminose e davanti hanno un mare lattiginoso e dei tramonti inquietanti perché appunto vivono il contrasto tra ciò che dovrebbe essere gioia e invece disagio. Poi abbiamo un grande quadro, per esempio, delle grandi bagnanti dove si può rilevare un atteggiamento stereotipato dei corpi. E il volto di alcune di queste donne ricorda le maschere impenetrabili del teatro kabuki giapponese, ad esempio. Perché? Perché qualche segnale vuol dare l'artista. C'è un bisogno di autodifesa con un ruolo che non è il proprio. Certo. Però ci sono anche tematiche più positive. Voglio dire che la donna vista solo come tragedia. Sempre con l'uso degli acrilici e in stile espressionista mio marito racconta anche storie in rosa più lievi non mai però queste donne sono simbolo di bellezza esteriore ma più che altro di bellezza interiore. Certo. Ecco, per esempio, ha voluto toccare il bisogno, l'aspirazione di maternità in un grande quadro con le due donne e un bambino oppure, perché no, l'amore di una donna per un'altra donna appena accennato, velato. Quindi ci sono donne di tutti i generi e molto particolari che invitano veramente a una riflessione. Bello, bellissimo. Senta, dunque, ma ha detto la galleria e il luogo dov'è? Perché non ricordo se all'inizio l'ho detto, se lo può ripetere. No, no, no. Allora, siamo a Marina di Massa, in provincia di Massa e ci accoglie l'ufficio del turismo lungomare di Marina di Massa che è la Villa Couture, una splendida cornice, in Viale Vespucci 24 quindi è proprio nel centro lungomare di Marina di Massa e abbiamo la possibilità di visita per chi volesse raggiungerci il mattino possiamo fare dalle 9 alle 13 nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 tranne poi appunto i venerdì e sabato che possiamo andare avanti anche fino alle 2 quando facciamo, come ho detto, questi eventi nell'evento. Certo. Quindi aspettiamo numerose gente. Poi ci sarà anche un'operazione curiosa. Cioè? Da poco. Sempre il risultato delle sinergie del territorio. Il 15 e il 16 ci saranno ombrelloni aperti cioè il Consorzio Riviera Toscana darà l'uso gratuito dell'ombrellone a tutti i turisti negli stabilimenti aderenti e questo ci riaggancia proprio alle bagnanti di mio marito che è anche la loro locandina composta da questo ombrellone nero L'ombrellone nero che è appunto l'immagine che poi ha mandato sul comunicato stampa che ho qui davanti a me Lui è il protagonista, esatto Poi ci sono altri bagnanti Sì, 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 l'ombrellone giallo insomma, le bagnanti più piccole, le bagnanti più grandi poi c'è un grande nudo bianco in omaggio, ecco, questo è proprio la bellezza ma diciamo in totale della donna c'è la donna al pianoforte rosso quindi quasi etere, evanescente dove quasi sparisce dietro questo enorme pianoforte purpureo ecco, poi ci sono le donne in bikini ma molto particolari perché voltano la faccia c'è una donna che sembra avere due volti come un giano di fronte che guardano nelle due direzioni opposte quindi anche un po' ambivalente insomma, è una mostra che invita a riflettere ecco, la tematica è molto forte anche molto contemporanea direi perché ci tocca veramente da vicino come abbiamo detto oggi il ruolo della donna insomma, va un po' rivisitato anche da parte degli stereotipi concettuali di cui appunto a volte siamo portatori un po' così ci sono sempre quegli stereotipi che ti vogliono la donna sempre in un certo modo e quindi ecco e quindi qui con la sua mostra io purtroppo non la posso vedere però spero spero che magari che non si possa trasportare il tutto eh sì venendo nelle marche che ripeto, mio marito ci ha lasciato il cuore perché veramente questa è stata una missione di molti molti anni con la Lega del Filodoro Rossano Bartoli e tutti quanti c'è un bel legame forte quindi mi incuriosiva il fatto che da giornalista poi è passato alla pittura ecco che è sempre stato amante no ma lui da bambino sì 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 lui è autodidatta non ha mai fatto scuole di pittura ma diciamo che è una dote innata per cui già da bambino ha visto il suo lavoro andare a finire in Giappone per esempio quindi no un giorno si vede dal mattino ma come ha fatto a arrivare là signora? eh perché è stato scelto in un concorso nazionale bravo sì sì quindi già bambino ha dimostrato la sua bravura sì sì poi figuratevi che ha studiato medicina che non c'entra proprio niente non c'è vero poi l'ha abbandonata però vede vede lo studio del corpo del corpo esatto perché fa possiamo dire di tutto ma insomma i corpi di mio marito anche se poi sono travolti dall'ispirazione artistica sì sì però l'interesse per il corpo comunque qualcosa mi dice che il suo studio non l'ha fatto in vano c'è sempre il corpo sì non ci sono paesaggi fine a se stessi è la figura umana che ritorna ecco ci sono un paio di quadri che volevo citare fatti anche con una tecnica molto strana particolare diciamo con degli stracci con del colore che riguardano gli altri luoghi sarebbero i luoghi dei cavalieri quelli dell'antichità mitologici e sembrano delle però cattedrali nel deserto urbano quindi anche lì vi lascio pensare quello che può voler dire sì insomma sono momenti di riflessione ecco ci porge dei momenti di riflessione con gli stracci quindi usa qualsiasi tecnica tecnica sì sì anche il collage ha fatto dei cavalieri che sono piaciuti molto al museo Guidi qui a Forte dei Marmi perché Ugo Guidi era a sua volta uno scultore pittore che faceva cavalieri quindi c'era anche un'affinità sì certo ecco quindi insomma chi meglio di loro i figli tutti quelli dell'associazione amici del museo Guidi hanno apprezzato questi cavalieri di carta cavalieri poveri così chiamati poveri perché su carta nera ci sono degli strati di collage acquerellati bene e poi fanno sbocciare questi cavalieri molto stilizzati bene senta e dopo gli studi di medicina è diventato giornalista 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 e in contemporanea ha sempre coltivato questa sua passione della pittura però gli è servita anche nel lavoro perché in gioventù mentre studiava si manteneva facendo il fumettista ha fatto molti fumetti la mano l'ha sempre esercitata e questo l'aveva portato addirittura anche qui a vincere un premio con l'esposizione delle sue tavole a china di un fumetto diciamo di fantasy antessignano nelle sale napoleoniche di piazza San Marco a Venezia addirittura e questo è stato il momento del fumetto poi dopo insomma l'arte pura diciamo e anche qui ha fatto molte esposizioni in passato a Milano una grande esposizione voluta dal comune organizzata dal comune con 5 sale del museo di storia moderna di via Sant'Andrea quindi siamo nel quadrilatero d'oro della Milano bene veramente con dei quadri ecco perché poi l'autore ama le grosse tene i grandi spazi ha fatto anche degli affreschi per beneficenza dove? sì sì alla piscina di Salso Maggiore e poi si è andato in beneficenza alla fondazione di Rita Levi Montalcini poi ha partecipato ai muri dipinti sull'appennino sì Emiliano ha frescato tutta la facciata di una casa se lui ha di questi spazi com'è che si chiama quel paese Dozza? sì esatto ma quello è famosissimo ma se ha questi spazi lui è più che contento ma di già sta meditando di fare una cosa enorme ah sì non lo so va bene comunque ha bisogno diciamo di queste tele sui 120 spazi grandi per entrarci dentro anche lui insomma ci fa entrare ci fa partecipare di più così all'opera deve prorompere deve prorompere quindi deve avere possibilità di espandersi ecco senta sì dica dica no no dica poi dicevo continuavo ha fatto varie appunto personali a Chiavari a Tirregna a Lecco un po' in giro per l'Italia vari premi le solite diciamo medaglie targhe d'oro però fa sempre piacere perché sono a Tirregna sono a Lecce a Livorno insomma ha anche collaborato sì ha collaborato beh non avendo più vent'anni l'ho già detto purtroppo non lo ripeto ma è la verità è la realtà è la verità e ha collaborato anche con lei è simpaticissima signora guarda sicuramente ma anche io non ho più vent'anni punto ma nemmeno io ma nemmeno io lasciamo stare ecco ho collaborato a un giornale questo è un aneddoto molto carino dove dovevano mettere la mia fotografia ci hanno rinunciato perché avevano più di 30 anni no vero non dico giornale è importante ma no ma guarda l'età purtroppo c'è e ce la teniamo e siamo fieri teniamo e però abbiamo questi vantaggi di aver avuto delle esperienze importanti lui ha collaborato anche a trasmissioni culturali della RAI eseguendo appunto ritratti di grandi scrittori oppure i fumetti per Enzo Viaggi della storia d'Italia ah bellissima ce l'ho quella ecco ma c'è suo marito ma pensa io ce l'ho l'enciclopedia di Enzo Viaggi da fumetti ma pensa adesso vado a vedere ieri non è di ieri ma dell'altro ieri quindi capisce la mia età anche eh vabbè ma l'importante è che andiamo avanti che cerchiamo sempre nuove strade come sta facendo non è dito che adesso già è insoddisfatto lo dico subito di questa mossa perché pensa già alla successiva è sempre così gli artisti sono così dopo sono già stufi loro sono già avanti e quindi si stancano no 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 assolutamente meno male che ci siamo noi che calmiamo cerca anche i critici fanno la sua parte poi no per un singolare assolutamente ecco quindi questo è mio marito questi siamo noi di dove è lei signora? di dove è lei? ma io di origine sarei piemontese esattamente di Asti però la parte mia materna è di queste parti ah ecco e quindi diciamo che sono metà piemontese e metà toscana ho capito invece suo marito è leccese leccese di Maglia provincia di Lecce sì ma se ne è dimenticato anche lui come se ne è dimenticato il più e molto perché è da una vita che viviamo a Parma bellissima città Parma bellissima città frequentavamo l'università appunto facoltà di medicina e abbiamo poi cambiato strada insieme eccoci qua adesso con altre cose ed eccomi qui lui artista e lei un ottimo supporto direi anche a livello comunicativo che infatti mi diceva che lei poi è docente sì docente di comunicazione ma della nutrizione e dell'alimentazione specifico a Roma e a Milano sì molto particolare è l'iniscente dell'alimentazione ecco il connubio anche dell'arte con il gusto uniamo tutto il bagaglio di conoscenze e di esperienze perfetto signora l'aspetto lei per prima la nostra mostra se no sarà la mostra a venire da voi se no sarà la mostra a venire qua nelle Marche forse è più facile vederci qua io volentieri la saluto la saluto la signora Rossana Mellone e niente spero di sentirla presto e di vedere presto una mostra di suo marito proprio qui nelle Marche magari a Recanati chi lo può dire magari lo conosco bene Recanati mi piace moltissimo e comunque grazie anche da parte dell'autore grazie della splendida ospitalità una buona giornata a tutti grazie signora arrivederci a presto grazie a presto l'arte a Radio R è con Nicla e purtroppo termina qui la nostra puntata e come al solito vi do appuntamento a martedì prossimo spero vi siate divertiti e come vi dico sempre ciao vi voglio bene